Una pista ciclopedonale che già divide nonostante sia solo un'intenzione e che manchi per adesso addirittura di un progetto. Vita difficile per l'amministrazione comunale e per il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che sulla volontà di realizzare su un modello di via del mare una nuova pista ciclopedonale lungo Viale Cappuccini trova adesso un'associazione appositamente costituita dal nome appunto Viale Cappuccini e che si mette di traverso. Soci fondatori liberi professionisti e commercianti che in un comunicato stampa chiariscono le proprie intenzioni ribadendo il senso di appartenenza alla comunità di chi è nato nel quartiere di San Pietro. L'associazione si legge segno di partecipazione attiva e concreta e soprattutto democratica che raccoglie le perplessità e l'opposizione davvero partecipata considerato il numero elevato di firme raccolte alle gravi criticità rappresentate dall'esecuzione di una pista ciclopedonale su Viale Cappuccini. Nelle scorse settimane sono state quasi 2000 le firme raccolte contro il progetto. L'associazione sottolinea inoltre di conoscere appieno le esigenze del quartiere e di poterle dimostrare grazie alle presenze qualificate di esperti in materia nella comunità. Dunque il progetto non è infattibile anzi dannoso. Dunque l'associazione Viale Cappuccini chiede un confronto con l'amministrazione comunale e non ci sta a subire scelte non condivise nella speranza di una vera partecipazione democratica. La querelle insomma è solo all'inizio.